Io volevo partire chiedendole che effetto l'ha fatto, sapere che Kobe Bryant a Los Angeles ha la maglia del Milan nel suo armadietto. No, ma io so che lui è tifoso del Milan perché ha fatto le medie a Reggio Emilia, è stato a Rieti, io sono un grande appassionato di basket, quindi so che suo papà ha giocato in Italia, lui è cresciuto qui, dal ragazzino era tifoso del Milan, proprio perché, come parla bene l'italiano, perché ha fatto 3-4 anni di scuola qui e quindi questa mattina è venuto a Milanena per vedere una macchina di Milan Lab, il nostro atleti trainer Bill Tilson che è californiano lo conosce e quindi credo che verrà anche domani mattina. Secondo quello che stava dicendo sul palco di Rubinio l'ha ascoltata bene perché oggi in partita l'ha subito, in amichevole scusi, ha subito segnato. Sì, ma farà bene lui, Roby sono sicuro che farà bene perché ha promesso il massimo dell'impegno, l'ha giurato, quindi sono certo che lo manterrà. Rubinio deve solo impegnarsi e concentrarsi perché ha numeri straordinari, lui è un grande campione. Signor Gagliani, mentre c'era questo incontro, appunto c'è stata la vera prima amichevole del Milan, 5 reti, seconda settimana di lavoro, la sua sensazione è che sta crescendo questo Milan? Sì, io non l'ho visto oggi, non lo so, parlo tutti i giorni, due o tre volte al giorno con Massimiliano Allegri che è molto contento del lavoro che sta facendo, stiamo facendo una preparazione finalizzata ad arrivare in forma il 20 d'agosto, il 21, quando ci sarà il primo dei due play-off dei Champions e sono le due partite più importanti della stagione, quindi dobbiamo superare il turno e dobbiamo arrivare quindi in buone condizioni. Che le dice Allegri di questo nuovo modulo, trequartista dietro le due punte, quali sono le sue impressioni? Bene, bene, lui è molto soddisfatto del lavoro di tutti, quindi ormai la decisione è presa che è appunto quella di tornare a giocare col trequartista, quindi comunque in generale al di là del trequartista Allegri è soddisfatto del lavoro che fanno i ragazzi, quindi siamo contenti. Lei parlava di un attacco di lusso oggi, io le chiedo in quale reparto è migliorabile il Milan di oggi? No, a me sembra un Milan completo veramente in tutti i reparti, quindi siamo contenti dei giocatori che abbiamo, abbiamo una buona difesa, abbiamo, perché Zapata e Mexes hanno ricominciato, mi dice sempre Allegri, come avevano finito, cioè molto bene, Zapata ha faticato all'inizio e poi ha fatto benissimo, Mexes ha fatto bene, quindi io non lo so, non mi piace mai fare previsioni prima della stagione perché non lascia il tempo che trovano, ma insomma siamo contenti di questi giocatori. La situazione di Honda, oggi CSKA ha detto che bisogna secondare anche le volontà del calciatore, ci sono novità, ci sono spiragli per Honda? Non lo so, adesso sentiremo cosa dicono le persone che ci sono a Mosca, io credo che la cosa più probabile è che arrivi nel mese di gennaio e non adesso, però vediamo, il mercato è aperto fino al 2 di settembre. Stava dicendo sul palco, a meno che ci sia qualche sponsor e le facciano completare la frase. Sì, se ci fosse, ma voglio dire il costo è troppo elevato al momento, pensare al cartellino e allo stipendio del calciatore per tutti questi mesi, quindi presumibilmente non arriva, però vediamo. Quindi ad oggi cosa si sente di dire? Pessimista o ottimista su Honda? Ma no, ma niente, ma noi siamo a posto, voglio dire se arriva Honda va bene, ma come trecortista abbiamo Bottenga, abbiamo Soponara, quindi siamo coperti. Che dice oggi di aver rivisto Pazzini? Era sorridente? Sì, ma Pazzini è stato un grande acquisto, ci ha dato una grande mano a conquistare appunto questa posizione che ci consente di andare in Champions, ha fatto molto bene, ha giocato facendo così, soffrendo perché aveva male, è stato operato, ci vorrà ancora un paio di mesi prima che ritorni, ma tutto va secondo le previsioni. Lei oggi ha fatto una foto, c'era anche un piccolo Casiraghi, però un piccolo talentino del Milan, Petagna oggi ha fatto un gol, è un amichevole stile, però ha un gran fisico, ha tanta voglia e basta, oppure ci può essere dell'altro in futuro? No, no, ma noi crediamo che lui possa diventare un calciatore, ha 18 anni e pochi giorni visto che è nato il 30 di giugno, quindi bisogna lasciarlo crescere, maturare, ma se l'abbiamo messo in prima squadra è perché pensiamo che sia degli attaccanti della primavera quello con un maggior talento. Lei parlava delle difficoltà dei club italiani, oggi a reperire campioni sul mercato, che piega sta prendendo questo mercato in questa sessione? Sta prendendo la piega dove ci sono pochissimi grandi club che dispongono di cifre che nessun club italiano può pareggiare, quindi bisogna pensare ad altri tipi di giocatori, perché i giocatori da 60 milioni, da 50 milioni, da 40 milioni non sono compatibili con i bilanci dell'italiana. No, ma io non sono preoccupato, la Juventus sta facendo un grande mercato, sembra che anche il Napoli stia facendo bene, anche se ha perso un giocatore fondamentale come Cavani, vediamo, vediamo un po'. Dottore, l'ultima cosa, Rubinia ha rinnovato, gli Aici continuano a rinnovare, è vero che non ha in parte… No, no, ma io parliamo dei giocatori del Milan e non dei giocatori di altre squadre. Ecco, dei giovani del Milan, appunto abbiamo parlato di Petagna, Saponara, Poli, qual è quello che in questo momento l'ha più entusiasmata in queste due settimane? Non si può, no, ma dai, io tra l'altro non ho ancora visto nessuna, oggi è la prima amichevole praticamente, andrò martedì sera a Reggio Emilia dove faremo un altro passo avanti e presto, come si fa ad essere entusiasti? Siamo… è appena iniziata la stagione e siamo ancora all'inizio, quindi aspettiamo. Saravi? Mi dicevano che oggi a Milanello c'erano all'incirca 4.000 tivoli. Bene, bene, sono contento, non lo sapevo, nel senso che stavo appunto parlando quando Milano stava giocando, bene, ma mi sembra che così anche in città le persone ci sia positività, quindi questo è molto buono. Ecco il Saravi, hai raccontato di questa super offerta che lui ha rifiutato? Sì, sì, noi abbiamo avuto un'offerta molto grande da parte di un club europeo che aveva fatto un'offerta molto grande anche al calciatore che appunto ha rifiutato il trasferimento perché il tifoso del Milan è voglioso di stare al Milan, quindi credo che sarà uno sprone perché lui possa far bene la prossima stagione. Un'ultima domanda, si parla spesso di calcio del Barcellona, delle sfide che ci sono state con il Milan di Messi, però c'è un allenatore che Villanova dovrà affrontare una battaglia difficilissima. Sì, io questa mattina ho chiesto, credo che il nostro sito l'abbia pubblicato, un messaggio di auguri appunto per Tito Villanova, cui faccio tutti gli auguri di cuore per la battaglia che sta conducendo e speriamo che vada tutto bene. Dottor Gagliani, il primo gol di oggi di Traore spesso viene definito talismano che magari porti fortuna a lui. Bene, sì, è stato lui il primo gol della cosa. Bene, insomma, so che mi hanno detto chi ha fatto gol adesso. Bene, insomma, certamente dovremo affrontare avversari così, poi sempre più forti, ma insomma, se buongiorno si vede la mattina, come si suol dire, bene. Ok, grazie. Grazie. Grazie.